Salve a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come mettere l'autotune in una canzone di Post Malone, che sarà in questo caso Congratulation. I pezzi cantati li ho fatti io per farvi vedere come si può piazzare l'autotune sopra questa voce. Iniziamo subito e bando alle cianci. Ok, quindi la canzone in questione è Congratulation di Post Malone, in questo caso la versione strumentale, e andremo a rifarci su questo pezzettino della canzone, e cioè quando parte il ritornello, su cui noi abbiamo precedentemente registrato questa parte vocale. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare per fare funzionare il nostro autotune è pulire la voce. In che senso pulire la voce? Mettere tutta la catena di plug-in che servono per ripulire una voce dalla stanza in cui è stata registrata. Perché si fa questo prima di mettere l'autotune? Perché bisogna capire quali sono le frequenze della voce che non vanno bene per farle funzionare con l'autotune. Inoltre dovete sapere che l'autotune per funzionare ha bisogno di dei compressori che spostano in avanti la voce per farla funzionare meglio a livello robotico, e cioè per dare quell'effetto robotico della voce, se no l'autotune mischiato pure a delay e reverb non funzionerebbe come dovrebbe funzionare. Quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto su questa traccia. Noi adesso sposteremo tutto il nostro la nostra traccia sul canale 5 del nostro mixer su cui noi abbiamo preventivamente già fatto la nostra catena di mixing. In questo caso come primo effetto abbiamo messo un equalizzatore su che abbiamo utilizzato per bucare le frequenze che non ci servivano. Dopodiché abbiamo messo un equalizzatore artistico per far sì che le frequenze che abbiamo buccato ritornino in alto, perlomeno acquisiscano molta più compattezza e la voce non sia snaturalizzata al 100%. Dopo aver messo questo, ripiazziamo un altro filtro e cioè un altro equalizzatore in cui andremo a toccare le frequenze che sono state alzate troppo dal nostro equalizzatore artistico. Dopodiché la catena di equalizzazione può finire pure qui. Che cosa dobbiamo fare? Adesso parte tutta la catena di compressori e cioè fra i compressori sono specificati i de-esser, i saturatori, i compressori multibanda, i compressori normali eccetera eccetera. Quello che abbiamo fatto qui è stato iniziare con un de-esser piazzato sulle frequenze che partono dalle 9000 arrivano quasi fino alle 10.000 mettendoli un side chain con una banda compressa. Dopodiché abbiamo messo un saturatore su cui sono stati saturate le bande medio basse e le bande medio alte. Le bande basse e medio alte sono quelle che danno molta più presenza alla voce soprattutto se ascoltata con un impianto stereofonico che può essere quello della macchina. Dopodiché abbiamo aggiunto un altro de-esser per pulire ancora di più la voce cioè per compressarla lì dove le S erano troppo acide. In parallelo abbiamo messo un altro compressore per far sì che la voce sia sempre più pulita e spostata in avanti. Il compressore a cosa serve in poche parole? Serve per livellare i picchi di volume che ci sono all'interno di una traccia strumentale, vocale, quello che è, per far sì che tutta la traccia di volume sia arrivi sempre o quasi sempre allo stesso picco e non ci siano troppe variazioni di volume del tipo di quando uno parla vicino, lontano, vicino, lontano e si creano quelle fastidiose variazioni di allontanamento e avvicinamento che in questo caso è semplice volume ragazzi. Andiamo poi a mettere un compressore multibanda. Che cosa ci fa il compressore multibanda? Semplicemente mette tutte le frequenze lì dove devono stare e cioè la vostra voce risulterà sempre più al centro di quello che è l'immagine stereofonica di tutta la canzone. Come ultimo plugin mettiamo un gate che serve semplicemente a pulire il fruscio fastidioso del rumore del microfono. Dopo aver fatto questo si può considerare la pulizia vocale finita e per dargli un pochino di salsa in più e far funzionare ancora di più il nostro autotune che cosa andremo a fare? Andremo a dargli un'immagine ampia in stereofonia e andremo a piazzargli un imager che come vedete ha un buco sulle medie e un buco sulle basse e il gioco è buco alto buco alto. Dopodiché abbiamo aggiunto un delay per dare più spazio e profondità alla voce molto leggero questo delay e due riverberi che agiscono in una in una cadenza di predilaying molto diversa una per esempio è a 234 millisecondi e l'altra è a 148 millisecondi così si crea molta più immagine a livello di riverberi. E detto questo abbiamo messo infine poi un limiter per far sì che la voce sia ancora più compressata e picchi solo dove vogliamo che non ci siano clipature e cose del genere. Adesso vi farò vedere come si presenta una volta che noi abbiamo messo tutti questi equalizzatori. Andiamo a sentire come si presentava prima e come si presenta dopo con tutta la nostra pulizia vocale. Prima. Dopo. ok quindi diciamo che la spaziatura e la pulizia sono fatte. Che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare ad applicare il nostro autotune. Vi spostate su un altro canale e bussate cioè mettete in bass l'autotune con la pulizia che avete fatto. Perché? Perché l'autotune deve risultare come primo plug-in perché sennò poi viene mangiato da tutti questi compressori e filtri che noi abbiamo messo e anche il delaying. Quindi andiamo a mettere il nostro wavetune real time in automatico e andiamo a cercare la scala di questa canzone che io ho già trovato. Come fate a trovare la scala della canzone? Semplicemente ve la cercate in una keyboard. In questo caso sarà questa. Capito? Quindi noi andiamo a prendere esattamente queste note che saranno quelle delle canzoni. Andiamo a mettere la nostra user scale e semplicemente quando vedete il meno a seconda della nota che corrisponde semplicemente togliete questo meno fino a farlo diventare così. Fatto tutto questo lavoro adesso vi faccio sentire come risulterà la nostra voce con questo primo autotune automatico impostato. Specialzted spadendo. Dopo. Dopo. Now they always say congratulations ok in più con l'autotune si può giocare anche con diversi autotune paralleli in che senso c'è già l'opzione all'interno di wavetune real times per poter modificare manualmente le notte all'interno della nostra scala di tuning il problema è che con fl studio non si capisce come arrivare a questa soluzione quindi io me ne sono inventata una mia personale e cioè mettere in parallelo un autotune evo real time in cui poi manualmente collegato al primo autotune potremo andare a correggere le notte che non ci vanno bene corrette in automatica dal nostro primo autotune andiamo a sentire come si presentava prima senza l'autotune evo e poi con l'autotune evo quel pezzettino di canzone in poche parole l'autotune in questo caso è molto più a tono perché due autotune messi in parallelo uno che agisce automaticamente e uno manualmente creano un gioco di robotica a livello vocale molto carino dopodiché allora questa versione che vi ho presentato inizialmente cioè come si mette l'autotune è la versione per più per i più pro diciamo così c'è un altro modo per mettere l'autotune in un modo molto più semplice e cioè non con tutta questa scala di pulizia che noi abbiamo creato la scala di pulizia può essere anche minore e adesso andiamo a farlo vedere spostiamo il nostro la nostra traccia vocale al canale 8 ed ecco qui che come primi plug in abbiamo posizionato un compressore un altro complessore in parallela un filtro che in questo caso agisce da equalizzazione per sottrazione di frequenza un delay e un reverb dopodiché che cosa andiamo a fare andiamo a ricollegare il nostro autotune a questo canale eccolo qua accendiamo i nostri plug in e come potete sentire questa qui è la voce con l'autotune con una versione molto più semplice ma che in ogni caso funziona lo stesso andiamo a sentirla questo è con la pulizia un po' più pronto ok ragazzi spero che questo video vi sia stato utile e cioè come mettere l'autotune sulla canzone di post malone congratulation non so cosa altro dirvi spero che vi siate divertiti e che vi sia stato utile ciao alla prossima ragazzi